Quest'oggi siamo a fare la conferenza stampa di presentazione di una serie di eventi chiamati estate in provincia, una serie di idee, di incontri, di proposte che vogliamo presentare ai nostri concittadini. Si farà arte, cultura, musica, iniziative conviviali. L'idea nasce principalmente dall'incontro di varie associazioni che sono sul territorio, che bussando e credendo anche nella provincia ci stimolano ogni volta di occuparci di mille cose. Allora con la migliore situazione di costruire un programma per tutta estate che parte questo sabato e finisce a settembre dove mettere in modo omogeneo tutte queste proposte. L'invito è di sfogliare il bel programma, di prendersi gli appunti, di vedere quello che può interessare. C'è di tutto, dai burattini alle bande musicali, alle sculture e anche l'occasione per venerci a incontrare nel plazzo della provincia e anche per vedere il bellissimo palazzo e il giardino con le tante opere del Manzù e di altri autobus. Quindi un invito a venirci a incontrare nel prossimo fine settimana.